Momenti di tensione si sono consumati venerdì sera a San Cataldo, dove è scoppiata una rissa per motivi ancora da accertare. Protagonisti della violenta elite sono stati tre uomini che si sono affrontati davanti a un bar in corso Vittorio Emanuele. Per cause da chiarire, intorno alle 20.45 hanno iniziato a litigare e in pochi minuti la situazione è precipitata, fino alla deriva violenta. I tre hanno cominciato a picchiarsi e spintonarsi, uno di loro ha riportato un trauma cranico e facciale, oltre alla frattura del setto nasale. Il ragazzo di 27 anni, in condizioni critiche, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale. La lite ha spaventato i passanti, che hanno chiamato subito i carabinieri. Una volta sul posto, i militari hanno riportato la calma e ascoltato la versione dei protagonisti e di alcuni testimoni. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la violente lite sia scaturita all'interno dell'ambito familiare. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sulla vicenda.